Qua è tutto pronto, attenzione, è tutto pronto per il nostro fantastico aperitivo di San Martino. Dove sono i miei ospiti? Beh, fortunatamente ci sono cinque elementi che rendono questo aperitivo e lo faremo poi più tardi. Perfetto, ineccepibile, impeccabile. Salvo, sei arrivato? Vieni, 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 vieni con le tue ragazze. Beh, prima caratteristica è il look. Buonasera, come sei elegante. Sì, ho cambiato colore. Anche le tue ragazze? Siete pronti? Mi ha invitato all'aperitivo, quindi, certo. Non devi acconciarle in qualche modo? Loro si sono vestite, ma mi manca il look finale e quindi i capelli. Ok, va bene, quindi mi raccomando, preparati, preparati. In realtà manca il vino, perché è la cosa più importante, è la cosa principale. E c'è qualcuno che mi può portare il vino? Scusatemi un attimo, scusatemi un attimo. Allora qua si sta pensando soltanto al look delle ragazze. E gli uomini? E vabbè, anche gli uomini. E mi scusi, se mi fa gli uomini, lo faccio io? E che devo fare, scusa? Buonasera. Cosa ti manca? E mi manca il vino. E ci sono io che sono di un certo livello. E manca, sai, una cosa che è abbastanza importante. Allora, per il vino ci penso io. Davvero? Ti ho portato un personaggio di un certo livello. Mi posso fidare? Ti puoi fidare, perché tra l'altro quando lo vedi ti ricorderà qualcuno. E chi è? Domin, vieni. Guardi che ti ho portato. Guardi che ti ho portato. Buonasera. 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 E il vino? Osservate attentamente. Osserviamo attentamente. Ha detto che dobbiamo osservare attentamente. Venga così. Aveva detto a me che portavi il vino. E vabbè, il vino dov'è? I madò là. Ma l'acqua ce l'abbiamo in frigo. Vabbè, l'acqua ce l'abbiamo fatta. Vado. Ma l'ha portata, scusa. Non mi preoccupare. Ha detto stai sicura, stai tranquilla, ci penso io. Mi sta tranquillamente. Ma l'ha detto che portava il vino, però è l'acqua, l'acqua naturale, è il temperato. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Che ti avevo detto? Madonna. Io non ci posso credere. Già somiglia a qualcuno. Puoi fare le stesse cose di qualcun altro. Madonna. Ma non è che lui. Può essere, può essere. Però se non ti figli adesso, guarda. Ancora? Certo. Vabbè, il calice. Magari una volta può andare a cibo, una volta è professionale, bro. Oh no, 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 è andata, è andata, è andata pure la seconda volta. Oh mio Dio. Osservate attentamente l'ultima volta. Osserviamo attentamente l'ultima volta. Anche se è fatto lentamente. Però perché lo butto ogni volta? No, vabbè, che c'è due goccioline così. Così si fa. C'è terza volta, ragazzi. Non è un caso. Allora, sicuramente. Non è, non è, non è una casualità. Scusami, ma tu sei il suo barbiere? Beh, devo dire che questo è il peggior del cliente. È il peggior del cliente. È il peggior di crescersi dei capelli. Vabbè, insomma, poi l'affrontiamo questa cosa. Ed è lui? Quello dei pani dei pesci? No. No. Non possiamo svelare tutto. Non è che tutta una volta diciamo le cose. No, poi vediamo in corso. Vabbè, una cosa è certa che stasera ne vedremo delle belle. Insomma, dovete restare con noi perché ci sono tanti buoni motivi e queste sono soltanto due delle caratteristiche perché questo appunto aperitivo di San Martino sarà perfetto. Complimenti, eh? Grazie. Complimenti per l'ospite che mi hai portato. Sono basita. Ci vediamo tra poco, eh? Grazie. Non andate via. Tra poco in diretta con voi. Grazie.